Aspetti investigativi e risvolti penali, come essere educatori nell'era digitale e conoscere i pericoli della rete. Su queste tematiche si è sviluppato l'incontro promosso dal Comune di Bolzano insieme al COISP, Sindacato di Polizia e all'Associazione La Strada Der Weg, dal titolo Minori e Violenza Digitale. Responsabilità, opportunità e prevenzione dei rischi. L'incontro informativo si è svolto nella sala di rappresentanza del Comune, alla presenza di molti genitori e di insegnanti che hanno potuto conoscere più nel dettaglio i pericoli che si possono celare in quest'era digitale. Tra i relatori, il segretario provinciale del COISP, Fulvio Koslovi, il quale ha evidenziato quali possono essere i segnali di disagio lanciati dai ragazzi e in che maniera genitori, educatori o insegnanti possono agire per evitare pericoli. I pericoli sono quelli dell'adescamento, sono quelli di scambi innocenti di persone che si fingono essere altri minori soprattutto, quindi mai lasciarli da soli, mai pensare che il proprio figlio sappia con chi sta parlando perché non è vero. Allo stato attuale in Italia il codice penale non è ancora stato aggiornato e codificato ai nuovi reati collegati alla rete. Ciò è stato fatto invece in altri paesi. La Gran Bretagna, la Germania, la Francia stanno adeguando le loro norme proprio per contrastare questi fenomeni che sono legati alla violenza digitale. Noi abbiamo recepito la Convenzione di Lanzarote che parla anche di questo, però purtroppo c'è un aspetto di tutela giuridica che forse sarebbe da rivedere. Anche e soprattutto su Facebook si possono nascondere delle insidie, dei pericoli che in alcuni casi vengono aiutati e creati dagli stessi genitori. La policy di Facebook prevede che sotto i 13 anni non ci si possa iscrivere. Molti genitori invece iscrivono i propri figli, anche minori, anche bambini, proprio alla pagina di Facebook pensando di essere così, forse più moderni, ma questo è pericoloso perché anche quello è un canale di comunicazione che deve essere controllato. Purtroppo ci sono oltre 5 milioni di pagine, queste sono stime che chiaramente derivano poi da attività anche di indagine, di minori sotto i 13 anni che non potrebbero avere questa possibilità di essere iscritti a Facebook e invece magari sono proprio i genitori ad aiutare a farlo senza essere consapevoli dei rischi. Grazie per la visione!